Quali sono i vantaggi della circoncisione nel trattamento dell'eoculazione precoce? Lo vedremo nel video di oggi. I pazienti affetti da fimosi e eccesso di cute del prepuzio hanno un glande ipersensibile proprio perché il glande è sempre coperto dalla cute. Quando effettueremo l'intervento di circoncisione, un glande a contatto con l'aria va incontro a un ispessimento della sua mucosa, un processo chiamato keratinizzazione. In pratica l'ispessimento della mucosa andrà a costituire una barriera tra le terminazioni nervose del glande stesso e la superficie esterna e quindi ci sarà una riduzione di sensibilità. La riduzione di sensibilità può essere di grosso giovamento soprattutto nel paziente affetto da eoculazione precoce. Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un like, a lasciare dei commenti che possono essere lo spunto per ulteriori tematiche future. Ti invito a iscriverti al mio canale YouTube, mi trovi anche su Facebook e Instagram, visita al mio sito www.patriziovicini.it. Per ora ti saluto e ti aspetto al prossimo video.